Un sogno non è ciò che vedi quando dormi, è qualcosa che non ti fa dormire. Accendete i motori, perché al Mugello non si dorme. Venerdì 27 maggio avrà inizio il Gran Premio d'Italia Oakley MotoGP 2022. Al calare del sole daremo il via al festival musicale più atteso da tutti i bikers. Al Mugello non si dorme. Yes DJ, Christian Marchi. Christian Marchi, American Express. Venerdì 27 maggio, sullo stage del Mugello. Top DJ Christian Marchi, al Mugello non si dorme. Il festival musicale, presso Autodromo Internazionale del Mugello. Ingresso Palaggio, non mancare.